Pronti? Pronti? Sulla America? Sì. Stiamo arrivando. Siamo. Siamo. Ciao. Ciao. Iniziamo da qui, questo viaggio parte da qui e io sono il primo, Perciò sono l'unzettino Siamo a Milano Stiamo in Cile Allora riusciamo anche a filmarci La stazione di Pacaritos Per ricordarti Direzione Viene Questo è decisamente il più bello della Lugana E questo è il nostro BMW 1250 nuovo Ah no, siamo col Vostrotto Va bene, va bene lo stesso dai Allora tada I lo parmi Allora che ora Allora 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Matteo, cosa dici? Siamo da Raul, ospiti da Raul questa sera. Ci ha incontrato per strada e ci ha invitato a casa sua. E già ho fatto questi. Adesso li assaggiamo, ma non sono già buoni da vedere. E io mi chiamo, però è in Italia. Quiere recorrer la Italia, a la Punta Arena, la... come si chiama? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti